wow ma qui c'è tantissimo cibo ne approfitto subito lo vedremo è tutto mio che succede sembra una nuova sfida pizza questo sì che un inizio grandioso tu ne hai solo una guarda io che montagna quella è una montagna guarda qui zack comunque ho fame zack mi passi il coltello è mio e va bene allora piano b arrotoliamo la pizza avete mai visto una cosa del genere è deliziosa fantastica ecco finito ora il mio momento qui un coltello non serve meno male che ha portato una moto sega mi stai spaventando rilassati devo solo tagliare la pizza divina cucina italiana non avete uguali proviamola non mi serve un coltello posso mangiare benissimo così che delizia avevi ragione la cucina italiana è la migliore una pancia come quella avrai problemi a passare dalla porta un biscotto da solo non basta sempre meglio di niente hai ragione come mi aspettavo è delizioso adoro gli oreo allora adorerà il mio biscotto multistrato multicolore aggiungendo il latte ottengo una combinazione perfetta mamma mia che delizia è il momento di scoprire che cosa c'è qui dentro a me sembra vuota controlliamo wow che biscotto gigante come ha fatto a entrare qui dentro mai visto niente del genere provo a mangiarlo in un sol boccone eccezionale lo adoro non capisco perché tu hai le gomme e io no guarda che io ne ho una immagino di essere io la fortunata sì di nuovo e va bene prendiamo la nostra gomma riesco a masticare velocissimo troppo buone ancora e adesso il palloncino è venuto benissimo guarda come vola via cosa dovrei fare io forse le gomme sono nascoste da qualche parte sì eccole finalmente un po di fortuna le provo subito wow che velocità preparatevi per una bolla enorme mi sembra grande abbastanza direi che è il momento perfetto ma grazie adesso sono ricoperto di gomma abbiamo tutti lo stesso dog strano wow è mostarda scopriamolo vado io per prima auguratemi buona fortuna un po secco ma buono con l'acqua è meglio adesso voi ok devo solo aggiungere un po di salsa non è molto piccante quindi ne metto un po di più speriamo di non esagerare oh no ho fatto un grosso errore molto meglio tocca a te zack devo confessare che sono un po spaventato ma io non mi tiro indietro devo mettere quanta più salsa possibile speriamo di non prendere fuoco aiuto resisti ho qui l'estintore grazie mille Emma mi hai salvato la vita qualsiasi cosa per te guardate occhi gommosi bellissimi guardate quanti ce ne sono mi dona il rosso tantissimo e se fossi un pirata scommetto che avrei un aspetto più o meno così sono Emma la piratessa occhio rosso tutto questo scherzare mi ha stimolato l'appetito mangiamo missione compiuta questa non serve più è il momento di recuperare le forze sei così forte zack sono il re dei cecchini guardate qua due in un colpo solo non so se ci riesco ma ho un'altra idea sono felice di aiutarti apri bene la bocca prendi al volo zack stai tirando malissimo dov'è la tua precisione di poco fa? non vorrei far preoccupare nessuno ma hai un po' esagerato ma che frittelle bellissime hanno una bella superficie croccante vorrei poterle assaggiare non ti preoccupare Emma puoi guardare mentre mangiamo la panna ci sta benissimo sicuramente ma io ho qualcosa di meglio sciroppo al cioccolato ok ottima idea te ne metto un po' sui pancakes avevo ragione è da impazzire un altro po' di salsa forse del tabasco dov'è il mio ultimo pancakes? sono pronta per mangiarlo ma è piccante la bocca mi va a fuoco com'è possibile? ma allora la fortuna non mi ha abbandonato presto la panna serviti pure con piacere me ne serve ancora stai abusando della mia gentilezza è il momento di insegnarti una lezione mi chiedo se ti piace la schioma da barba grazie zack sei un vero gentiluomo che schifo non ti piace? tic tac non male sono d'accordo e tante tic tac sono ancora meglio proviamola proviamola cioè io ne ho solo una però dai la provo buona ma insufficiente meno male che sono più fortunato ne ho di diversi sapori li proverò tutti insieme buona idea ho un'idea grandiosa presto fatemi spazio che meraviglia così tanti colori versano ancora Jess pancia mia fattica panna ora me le mangio tutte wow sembri un formichiere Jess e ora ho anche un alito freschissimo questo è tutto per oggi ne volete ancora? allora iscrivetevi al canale Multido ci sono tantissimi fantastici video che vi aspettano ciao ciao e alla prossima